In poco più di un'ora GRM in fissi club Arezzo chiude la pratica Cambi Bisenzio con un perentorio 3-0 e dopo la bella prova di carattere esterna a Foiano continua la sua marcia di avvicinamento alla parte alta della classifica per centrare l'obiettivo che si è prefissata la giovane dirigenza Maranto. Comunque il risultato non è stato mai scontato, la formazione fiorentina, anche se in una bassa posizione di classifica può vantare elementi dal passato di comprovato valore. Club Arezzo torna in quinta posizione nella classifica generale, intenzionati a confermarla anche dopo l'ultimo turno del girone di andata in trasferta sul campo di Rufina contro l'ostica Remo Masi distanziata di sole tre lunghezze. Una partita semplice che poteva però avere dei lati delle implicazioni importanti e negative e averla sottovalutata. Siamo al termine del girone di andata quindi una proiezione su quello di ritorno avendo visto un po' tutte le squadre. La GRM in fissi ha qualcosa da migliorare nel proprio organico, deve maturare in qualche fondamentale oppure può andare in fondo in questa maniera. In realtà ancora stiamo cercando di consolidare il nostro sistema squadra che sinceramente è arrivato a gennaio ancora un po' ballerino, infatti anche oggi come dici te è una partita che poteva essere ancora più a senso unico di quanto è stata invece l'ultimo set poteva essere ancora più difficile di quanto poi alla fine nelle ultime due palle è successo. Però ecco stiamo cercando di tracciare una linea, i ragazzi si stanno impegnando al massimo e stanno venendo fuori delle indiridionalità come appunto dicevete Filippo Scortieci che chiaramente è il nostro bomber, anche Enrico Zampetti sta risolvendo definitivamente problemi fisici che si porta dietro ormai da operazione del crociato. Per quello che riguarda la proiezione sul campionato faccio un po' fatica a dirti qualcosa di preciso perché viviamo un po' alla giornata visto che fino a oggi abbiamo dimostrato di saper vincere contro tutte, ad esempio Chiusi e Poliri che sono le squadre più forti ma anche di perdere contro tutte, ora non sto a ribadire le sconfitte che abbiamo insomma subito in maniera anche abbastanza interna. Quindi faccio fatica, mi auguro solo che il giorno di torno sia migliore del giorno di andata, questo sì. Grazie Grazie Grazie